Buonasera, benvenuti in questo nostro programma che anticiperà quello che sarà poi il carnevale della città di Mazzara del Vallo. Come vedete infatti ci troviamo direttamente su strada nella bellissima Corso Umberto, nel bar gelateria Coppetta, che fa parte degli sponsor, che come sapete per realizzare degli eventi ci cuoiono i soldi che può dare un'amministrazione, che non li dà mai a sufficienza, e quelli che poi si riescono a raccogliere con gli sponsor che capiscono l'importanza di un evento come questo. Capofila di questa iniziativa significativa è il consigliere comunale del Partito Socialista Italiano, Francesco Foggia, che è qui con noi, al quale vogliamo subito dare la parola per raccontarci come si è messo in questa esperienza. Voi sapete che lui si mette in tutte le esperienze che danno alla città la possibilità di mettersi in mostra e di vivere, perché vivere significa appunto partecipare alla vita quotidiana della città e quindi far crescere anche la parte culturale, artistica, creativa. Semplicemente perché io sono innamorato della mia città e quindi credo che attraverso un buon lavoro si possano realizzare delle cose importanti. Io oggi sono qui, è vero che in qualità di promotore e di consigliere comunale stiamo riuscendo ormai da qualche anno a realizzare qualche manifestazione importante. Questa, il carnevale, è una di quelle. Una cosa è certa, naturalmente io sono qui a promuoverlo soprattutto prima come concittadino di questa città. Io sono legato a questa città e abbiamo pensato già in passato, ma adesso ancora di più, di cercare di realizzare un carnevale degno della nostra città. Spesso e volentieri i nostri concittadini sono sempre pronti ad andare fuori di Mazzara del Vallo per divertirsi. Noi stiamo dando l'opportunità, grazie anche al sostegno dell'amministrazione comunale, di realizzare questo carnevale. Naturalmente da solo non si va da nessuna parte, non basta solo il sostegno economico dell'amministrazione comunale, che tra l'altro proprio domani andrà a ratificare attraverso la Giunta la delibera che già è pronta con un contributo. Ma soprattutto grazie anche all'impegno delle attività commerciali, ecco Coppetta ma tante altre della nostra città stanno lavorando nell'interesse comunque di dare corpo a questo carnevale. Siamo proprio qui nel centro storico perché proprio il centro storico sarà protagonista di questo carnevale. Dico semplicemente, l'impegno è quello di dare un'opportunità di regalare un sorriso ai bambini mazzarese, ma non solo, ha molte famiglie, non sono tutte che se lo possono permettere un carnevale per andare a Sciacca o in altre città. Noi stiamo dando l'opportunità a portare di mano di avere un carnevale. In questo carnevale collaborano molte associazioni. Ci sono associazioni di volontariato, ci sono diversi gruppi. Tra questi gruppi c'è un comitato carnevale, la quale è l'artefice, diciamo, è l'ideatore di questo carnevale ormai da diversi anni. Ma soprattutto c'è il gruppo irriducibile, ci sono diverse famiglie, diverse associazioni convogliate dentro questo gruppo dove hanno la passione dei carri, dei carri allegorici e proprio loro hanno realizzato quattro carri allegorici che allieteranno comunque le vie della nostra città. Devo ammettere che stanno realizzando veramente delle grandi opere d'arte perché anche realizzare un carro è arte. L'arte è l'anima della nostra cultura e il carnevale fa parte anche della nostra cultura. Anche se Mazzara non ha la storia del carnevale, noi siamo pronti a cercare di cimentarla e possibilmente di migliorarla. Un anticipo, si stanno rifacendo alla politica nazionale o anche a quella locale? No, no, semplicemente noi, attenzione, vedo le altre città che lavorano, in senso metaforico, anche sulla politica nazionale. Noi, niente, valorizziamo la nostra città. Ci sono dei carri che rappresenteranno la nostra città, ma non voglio svelare il segreto perché non è giusto, ma anche ci sono carri che comunque rappresenteranno alcuni cartoni del passato, ma anche delle grandi città del mondo. Dico, sono carri importanti, significativi. Una cosa è certa, ogni carro avrà il loro significato. Tutto ciò comunque nell'interesse è dare colore e dare comunque abbellire la nostra città, con i colori, con i coriandoli e non solo. Va bene, per questo evento chiaramente parteciperanno anche altre persone che, per esempio, presenteranno questo carnevale, avranno quindi un ruolo significativo e sono vicini a noi. Uno è un uomo ed è Nicola Titone, un presentatore anche lui, che ci racconta cosa farete. Ecco, innanzitutto volevo dire che sono contento che Ciccio mi ha coinvolto in questo spettacolo, in questa manifestazione, perché mi ricordo io quando ero più piccolo che già a Mazzara c'erano dei carri, c'era questo carnevale che era abbastanza bello e carino per i bambini. Poi è stato abbandonato e finalmente stiamo riprendendo questa usanza, quindi sono molto felice di partecipare a questo evento. L'evento si svolgerà con partenza naturalmente al porto, dove i carri si riuniranno e poi ci sarà un giro per le strade della città fino ad arrivare alla fine di tutto in Piazza della Repubblica, dove in Piazza della Repubblica avremo noi delle scuole di ballo che si esibiranno per fare uno spettacolo naturalmente nella piazza e dopo che finiranno loro continueremo con un DJ che ci aglieterà fino a quando avremo il fiato. Più la sfilata di auto? Sì, ci sarà pure una sfilata di auto di 500, sì, sì, me l'avevo dimenticato, che saranno addobbate per il carnevale. Penso che sia un bel lavoro questo. E c'è anche Alessandra Alamia che anche lei presenterà, perché è un uomo e una donna, è giusto, no? Così si fa la parcondiccio anche in queste cose. Lei fa anche tra le altre cose la commerciante. Sì, aspettiamo tutti giovedì grasso per festeggiare insieme alla cittadinanza di Mazzara del Vallo questo carnevale allegorico. Tanti balli, spettacoli, carri, tanto divertimento perché il carnevale è per tutti, sia per i grandi ma soprattutto per i piccoli. Sia per chi può permettersi di andare fuori, sia per chi non può permettersi, perché i genitori lavorano, hanno un lavoro che li trattiene nel territorio, i bambini giustamente dicono perché per noi non c'è la festa, invece per voi ci sarà una grande festa. Dico semplicemente che naturalmente noi, la nostra ambizione non è quella di essere migliore della Sicilia, la nostra ambizione è quella sicuramente di cercare di dare un grande significato al periodo di carnevale alla nostra città. Noi stiamo invitando tutta la cittadinanza a partecipare, già negli anni abbiamo avuto comunque un buon successo. Sono convinto che quest'anno la cittadinanza scenderà in piazza e per le vie della città perché proprio è all'insegnare di divertimento, è aperta a tutti. Il nostro obiettivo è quello veramente di rendere felice non solo i bambini, gli anziani, diversamente abili, tanto è un carnevale a portata di mano. Noi non abbiamo... Una grande aggregazione. Una grande aggregazione, ma soprattutto sono convinto che anche città limitrofi come Campobello, Castelvetrano e Strasatti, sicuramente ne traranno benefici. Io dico semplicemente, ma è anche attraverso questo carnevale comunque c'è un indotto di tutto il riferimento, tutto il rispetto perché comunque arriveranno per le vie della città quelle 3-4 mila persone e comunque rimarranno in città e spenderanno dei soldi, le attività commerciali in un periodo di crisi, avranno anche un ossigeno, soprattutto a livello economico. Il nostro obiettivo è sicuramente di dare valore e spessore alla nostra città anche attraverso questi eventi. Il carnevale per me è una manifestazione importante. Già negli anni è avuto un buon successo, quest'anno oltre alle scuole di ballo, oltre alle 500 e ai carri, dico che ci saranno altre novità. È quello sicuramente di regalare un sorriso veramente a chi ne ha di bisogno, soprattutto in un periodo di crisi dove la gente magari è pronta sempre a criticare e dire non si fa niente, non si fa niente, noi ci stiamo mettendo la faccia. Dico semplicemente, ci mettiamo la faccia, possiamo essere anche criticati, ma il nostro obiettivo, ho detto, non è quello di essere migliori, è quello di rendere importante, di rendere comunque significativa la città di Mazzatevallo che è presente in questo carnevale, è presente l'amministrazione comunale, è presente il consigliere Foggia, ma soprattutto tutti gli amici miei che ci stiamo spendendo. Noi ci mettiamo la faccia, possiamo essere criticati. L'appuntamento è per? L'appuntamento è la partenza giovedì grasso alle ore 17 da Piazzale Quinci, faremo poi un percorso Molocaito, poi andremo nella via Vittorio Veneto, poi andremo nella zona stazione, scenderemo poi per Lungomare, dove c'è la gelateria Muccio Gusto, gireremo su Lungomare a destra e poi ci faremo in Piazzata della Repubblica. Solo sabato avremo un percorso diverso, sarà fatto tutto il Lungomare, andate e ritorno per poi finire sempre in Piazza della Repubblica. Naturalmente la Statenanza è poi invitata a partecipare in Piazza della Repubblica, dove quest'anno è stato allestito un palco, abbiamo due degni presentatori, dove proseguiremo con balli e canti, naturalmente fino a notte fonda, fin quando le persone non si stancheranno, noi saremo lì sicuramente a dare significato a questo carnevale. Bene, allora vi aspettiamo e vestitevi, truccatevi, insomma fate in modo di essere compartecipi alla festa, tutti insieme per un carnevale non come Venezia, ma insomma con l'aspirazione di diventarlo. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.